Musica Bene, ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telecittà. La scomparsa del piccolo Francesco ha scosso l'intera comunità di Conche di Codevigo, un piccolo comune della provincia di Padova. Stando a quanto riportato, il bimbo di soli sei anni è deceduto a causa di una grave crisi respiratoria causata dal Covid-19. Francesco, che l'11 maggio avrebbe compiuto sette anni, si è spento sabato 30 aprile lasciando i genitori e la sorellina. Ad accorgersi che il bambino non respirava più, sono stati proprio i genitori che hanno chiamato subito i sanitari del 118. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale piediatico di Padova, purtroppo per Francesco non c'è stato nulla da fare. Continuiamo con la cronaca e torniamo a parlare della morte del piccolo Ahmed. Gli inquirenti chiedono ai coetanei di fornire informazioni a 360 gradi per tentare di scoprire le vere cause del decesso. È trascorsa una settimana dal ritrovamento del corpo senza vita di Ahmed, il ragazzo di 15 anni scomparso dalla sua casa di mortise. Una tragedia immensa che ancora rimane avvolta dal mistero, anche se per l'indagine al momento non ci sarebbero responsabilità di altre persone. Familiari e conoscenti del 15enne però ritengono che non si sarebbe mai ucciso e che tutto fa pensare che sia stato costretto a lanciarsi nel fiume. La portavoce della comunità marocchina ha lanciato un appello ai coetanei di Ahmed chiedendo che chiunque sappia qualcosa possa aiutare nelle indagini a trovare la verità. Presentato il ricorso dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, con il documento si chiede alla Suprema Corte di annullare il provvedimento del giudice che si rifaceva quanto deciso dalla Corte di Assise sul caso Regeni. La Procura di Roma ha impugnato davanti alla Cassazione la decisione dell'11 aprile scorso del GUP con cui ha sospeso il processo a carico di 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni nel 2016 al Cairo. Oggi si è svolto l'incontro tra il governo e i sindacati sui contenuti del decreto aiuti che dovrebbe essere varato dal Consiglio dei Ministri. Per i sindacati la cifra è di 6 e 7 miliardi ed è insufficiente, pertanto chiedono che venga avviato uno scostamento di bilancio. Consueto servizio giornaliero riguardante l'odierno bollettino Covid in Regione. Scende come ogni lunedì la curva dei contagi da SARS-CoV-2 in Veneto che registra 1168 nuovi casi e 4 decessi nelle ultime 24 ore. I numeri sono sempre minori a lunedì per appunto il minor numero di tamponi eseguiti nel fine settimana. Il calo, il dato dei ricoveri ospedalieri in area medica. Sono 900 in totali pazienti in questi reparti con un meno 14. Stabili invece i dati riguardo le terapie intensive. Cronaca. Aggredito sotto casa dal fidanzato dell'ex professionista Rodigino. Finisce all'ospedale. È successo in centro a Rovigo dove un fotografo e web designer ha trovato sotto casa sua in centro un giovane che lo ha minacciato verbalmente e poi aggredito fisicamente. Non è cosa di tutti i giorni essere aggrediti sotto casa dal ragazzo dell'ex. La sua dichiarazione su Facebook non ha lasciato indifferenti le centinaia di amici che si sono prontamente accertati delle sue condizioni. Il professionista, molto noto proprio per la sua attività, è stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso per le medicazioni avendo riportato alcune lesioni. Il referto dell'ospedale indica escoriazioni e contusioni. Fortunatamente comunque nulla di serio. Il professionista valuterà ora di sporgere denunce alla legge consente a chi subisce lesioni di poter far querela entro 90 giorni dall'episodio in questione. Ma nel frattempo si è solo detto rattristato che nel 2022 possano ancora accadere cose del genere. Minacce e violenza restano la maschera dei deboli. E purtroppo continuiamo con le notizie non buone. Lutto nel mondo dello sport veneto. A 31 anni è morto l'ex campione di ciclismo Dario Sonda. È deceduto all'ospedale di Vicenza dove era ricoverato in seguito a un incidente avvenuto la settimana scorsa a Romano di Ezzelino in provincia di Vicenza. L'ex campione era alla guida di uno scooter quando si è scontrato con una BMW. Le sue condizioni erano apparse gravi da subito. In questi giorni i medici hanno lottato per tenerlo in vita ma le lesioni troppo gravi sono state fatali. Cambiamo argomento. Come previsto sono state prorogate le misure di contenimento dei costi del carburante. Vediamo il servizio con i dettagli. Il governo ha dato il via libera alla proroga sul contenimento dei costi dei carburanti. È arrivato l'ok dal Consiglio di Ministri al decreto che proroga all'8 luglio il taglio delle accise sui carburanti. L'intervento viene steso anche al metano per cui l'accisa va a zero e l'IVA viene ridotta al 5%. Tra i punti più salienti del provvedimento anche il monitoraggio anti-speculazione del garante dei prezzi che si avvarrà della collaborazione della Guardia di Finanza. Molte le situazioni che sono emerse di prezzi con rialzi ingiustificati nei controlli di questi ultimi mesi. Si legge tra l'altro nel provvedimento che il taglio delle accise sui carburanti è in considerazione del perturbare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. Ed è quindi prorogato a decorrere dal 3 maggio 2022 fino all'8 luglio 2022. Grande spavento nei giorni scorsi a Venezia per i passeggeri di due vaporetti che si sono scontrati. L'incidente è avvenuto vicino al ponte delle Guglie a scontrarsi in mezzo della linea 3 e uno della linea 5.2. Avevano direzioni opposte. Lo scontro ha provocato la rottura di alcuni vetri. Una delle barche con la prua ha colpito il lato dei finestroni. Una ragazza è rimasta ferita. Cambiamo argomento. Inizio settimana di passione per il traffico in A4 per una serie di cantieri di lavoro. Vediamo di cosa si tratta. Sarà una settimana di lavori per il tratto veronese dell'autostrada A4. In particolare il rifacimento della pavimentazione in careggiata Est, direzione Venezia, tra i caselli di Somma Campagna e Verona Sud, obbligherà gli automobilisti a viaggiare su due corsie di marcia, di cui una di larghezza ridotta nelle notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 maggio, dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Per un intervento simile di riparazione comunque dei giunti del ponte sul torrente Chiampo in careggiata a ovest, direzione Milano, tra i caselli di Montebello e Soave sarei invece solo una la corsia di marcia a disposizione dei viaggiatori nelle notti di lunedì 2 e martedì 3 maggio, sempre dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Si è chiusa con successo e soddisfazione alla nuova tappa di Bike & Wine, progetto nato nella primavera del 2021 con un duplice virtuoso obiettivo, promuovere l'enoturismo sostenibile su due ruote e più in profondità un'esperienza più intima del contatto con il territorio, valorizzando al contempo il patrimonio enologico che questi ha da offrire. Dopo la tappa inaugurale, Bike & Wine ha assolcato i tracciati di numerosi territori raccontando di volta in volta le particolarità. La due giorni del 30 aprile 1 maggio è stata l'occasione per un tuffo a piepari nell'unicità del territorio di Conegliano e Valdobbiadene e con il supporto del Consorzio di tutela delle bollicine di Conegliano, Valdobbiadene e Prosecco Doc. Un viaggio rigorosamente su due ruote nella bellezza delle colline patrimonio Unescu sono dato su più tappe per un'esperienza ecletica. E come di consueto, chiudiamo dando un'occhiata al meteo, fino a mercoledì circolazione senza nette e persistenti componenti cicloniche o anticicloniche, attese giornate all'insegna di cambiamenti anche repentini delle condizioni meteorologiche come tipico della stagione primaverile, con precipitazioni più probabili sui rilievi e zone limitrofe durante le ore pomeridiane. Da giovedì invece una depressione proveniente dal nord ovest porterà frequente nuvolosità e varie precipitazioni. E' tutto anche per oggi per quanto riguarda il nostro notiziario. Come sempre un buon proseguimento con i programmi di Telecittà. Come sempre un buon proseguimento con i programmi di Telecittà.